Vibranti e emozioni hanno attraversato il mio corpo nell'ammirare questo straordinario spettacolo che ci ricorda l'esempio di Agatha, il suo martirio, il suo coraggio, la sua forza nel resistere alle lusinghe, alle tendazioni di un uomo crudele che in tutti i modi ha cercato di far innegare la sua fede ma lei ha resistito, ha resistito fino al martirio e quindi al sacrificio della vita. Questo è uno spettacolo che ci chiama a vivere questa festa con quella fede, con quella devozione che devono caratterizzare i giorni della processione. È uno straordinario momento di unione, di fraternità per ricordare con il cuore in mano e tutti insieme la vita gloriosa di Sant'Agatha.